. Sotto copertura 3, novità e anticipazioni sulla terza stagione. Sotto copertura 3, ci sarà la terza stagione?. Dopo la cattura di Zagaria in molti si chiedono se ci sarà o meno una nuova stagione di sotto copertura. Anche la seconda stagione della fiction con Claudio Gioè è stata un successo, nonostante la concorrenza del Grande Fratello Vip su Canale 5. Ilari Blasi ha sempre vinto la serata in termini di ascolto, ma la serie televisiva Sirai 1 ha sempre mantenuto uno share molto alto. . Sono tantissimi i telespettatori che si sono affezionati alla fiction, che questa stagione ha visto al centro le vicende di Michele Zagaria, interpretato da Alessandro Preziosi. . Il successo ottenuto dalla seconda stagione di sotto copertura fa ben sperare in una possibile terza serie, ma al momento non ci sono notizie certe. . La Rai non ha ancora annunciato un seguito o la possibilità di scrivere una nuova sceneggiatura. . Sotto copertura 3, il futuro della serie televisiva. . Dopo sotto copertura la cattura di Zagaria non sappiamo se ci sarà la terza stagione. Certo visto il successo si può ipotizzare un seguito, ma ad oggi nulla è stato confermato. Bisogna dire che non è stato detto neanche il contrario. . Quindi in questo momento non ci resta che aspettare qualche notizia da parte della Rai. Una cosa è certa, la storia del boss Antonio Iovine, relativa alla prima stagione, e quella di Michele Zagaria hanno fatto registrare un ottimo successo di pubblico. . Le vicende di mafia e camorra coinvolgono sempre i telespettatori che seguono le fiction. . Questo successo farà sì che la Rai decida di girare la terza stagione di sotto copertura. . Sotto copertura 3, quali novità?. . Nessuna certezza, quindi, per il futuro della serie televisiva di Rai 1. . Per il momento non ci resta che aspettare. Noi di Gossip e TV vi terremo aggiornati su tutte le novità relative alla fiction con Claudio Joen e i panni di Michele Romano. . . . . . .